casa per me casa mia la calabria è campi sterminati di agrumi e olivi qui l'olio è proprio ricordi di casa di infanzia anche per me assolutamente sardegna quindi anche lì olio senza incertezze l'olio per me è la base indiscussa da dove parte tutto dove si arriva a cottura crudo e lui è il re è l'ingrediente fondamentale olio carina bastano questi la mia cucina è blending direi io la chiamo di solito fusion selvaggio però in realtà il concetto di blending è perfetto nel senso che prendo il meglio e mi piace mischiarlo quindi la mia cucina è blending decisamente amo amo il concetto per me è la cucina è blending nel senso che comunque non esiste una ricetta che non abbia comunque un mix di più ingredienti per cui mi sembra il fondamento della cucina grazie a tutti